Don Gabriele Catelan, parroco di Orgiano, lascia il suo incarico dopo 16 anni. Un apostolato che ha lasciato il segno in tutte le attività svolte nell'unità pastorale 7, in particolare alla Casa di Riposo San Giuseppe, dove ospiti ed operatori hanno voluto ringraziarlo pubblicamente dopo una cerimonia religiosa celebrata in giardino. Tutta la comunità della Casa di Riposo di San Giuseppe mi ha festeggiato in una maniera straordinaria, quindi un grazie speciale. Per noi della Casa di Riposo è stata una presenza costante, è venuto sempre con amorevolezza, senza fretta, è stato di conforto non soltanto per gli ospiti ma è stato un bene per l'anima, per lo spirito, ma anche per il corpo, per tutti noi perché lo stare insieme aiuta. È stato in particolare durante il lockdown che il legame si è stretto ancora di più con i sacerdote. Appuntamento molto atteso la messa celebrata all'esterno dell'istituto in ogni stagione, ma seguita dagli ospiti attraverso le finestre. Rappresentava l'unico collegamento sociale prezioso con la vita fuori dall'istituto. Don Gabriele ha sempre garantito a tutti la sua presenza, donando una buona parola per ciascuno attraverso le vetrate. Ho trascorso 16 anni bellissimi qui, sono sempre venuto a celebrare la messa, ma molto volentieri perché una comunità viva, una famiglia che mi ha sempre accolto volentieri e ha partecipato e per un parroco è il massimo. Quindi sono io che ringrazio la Casa di Riposo per tutto quello che ho ricevuto di bene. Noi purtroppo siamo amareggiati che lui adesso si è costretto ad andarsene, però lo ringraziamo tanto e gli assicuriamo la nostra preghiera e il fatto che lui sarà sempre presente nei nostri cuori e noi come Casa di Riposo continueremo sempre a ricordarlo. Grazie. 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 Grazie.